Buongiorno, sono Mariangela Sicilia e sono sul palcoscenico del Teatro Reggio di Torino per le prove dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizzetti che andrà prossimamente in streaming sul sito del teatro. Oggi è l'8 marzo, è la giornata internazionale della donna e mi faccio portavoce del Teatro Reggio per fare gli auguri a tutte le donne e mandare un pensiero speciale a tutte quelle donne che danno quotidianamente il loro fondamentale contributo per la lotta contro la pandemia del Covid. L'opera è uno spaccato della società e i personaggi sono nostri compagni, ci rappresentano e noi ci medesimiamo ed essi. Per questo il Teatro Reggio vuole fare un piccolo regalo e proporre un istratto della Carmen a Tibisè. La Carmen è una donna che è da sempre simbolo di emancipazione femminile, è una donna libera e indipendente e ci auguriamo che tutte le donne del mondo possano essere così. Vi lascio con le bellissime voci del coro femminile del Teatro Reggio di Torino che interpretano il coro delle sigaraie. Ancora bellissima festa della donna a tutte le donne da parte mia e da parte del Teatro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.